Fossacesia in fermento per la partenza del Giro d'Italia che ci sarà a Lungomare di Fossacesi il prossimo 6 maggio. Sono iniziate in questi giorni le 44 iniziative del Comune dedicate proprio al Giro d'Italia. Iniziative che coinvolgono le scuole, i cicloamatori, gli appassionati di ciclismo. Da oggi anche una mostra al Teatro Nino Saraceni dedicata al grande Alessandro Fantini. Tanto per dire qualche numero, 5 Giri d'Italia, 2 Tour de France. Mostra che ricorda anche la figura di Gino Bartali che amava Fossacesia e che ha avuto anche la cittadinanza onoraria. Sindaco Enrico Di Giuseppe Antonio. Sì, intanto oggi inauguriamo la mostra su Alessandro Fantini, il nostro santrino che non è stato mai dimenticato da nessuno in occasione di questo grandissimo evento storico, la grande partenza del Giro d'Italia. 44 sono gli eventi, gli eventi da oggi fino al 5. Poi ci saranno sorprese ed eventi nella partenza del Giro E nella parte alta di Fossacesia in Piazza Fantini e nella grande partenza del Giro d'Italia sul lungomare di Fossacesia. Indubbiamente devo dire grazie, grazie, grazie alla passione, l'intraprendenza, alla disponibilità di associazioni, di persone che hanno contribuito per lanciare questo evento che si chiama Aspettando la grande partenza del Giro d'Italia. Ci saranno iniziative importanti dalla corsa storica fatta dal gruppo sportivo Fantini al Villaggio del Vento, sarà un'iniziativa nazionale che raggrupperà le Proloco d'Abruzzo italiane, le Città del Vino e i Comuni Città del Vino e tante associazioni di sport, come si dice, estremi. Insomma, Fossacesia si prepara a questo grande evento così come si prepara tutto l'Abruzzo. Quindi eventi non solo di carattere sportivo, come ho detto prima, una città in fermento? Una città in fermento, tutto pronto per quanto riguarda sicurezza, accoglienza, parcheggi. Un grazie, un grazie davvero di cuore alla Prefettura, alle Forze dell'Ordine, alla Questura, al Comune, a tutte le associazioni che hanno collaborato, non solo per Fossacesia ma per l'intero Abruzzo, per accogliere questo grande evento.